Fra le bellezze e le bontà delle Marche, il CT della Nazionale di Calcio Roberto Mancini si complimenta per la prestazione esemplare di ragazzi che giocano a calcio sulle spiagge del Conero. Sente il profumo di vittoria nel tartufo e soddisfatto. Nel riconoscere sono questi i capolavori che cercavo fra gallerie d'arte e palazzi della regione. Siamo pronti per una nuova stagione, dice il nuovo testimonial delle Marche nella campagna promozionale. 9 mini spot da 15 secondi e le versioni da mezzo minuto che dal 22 maggio saranno protagonisti sulle reti Rai e sui social e poi accompagneranno sia sui canali della TV pubblica sia su quelli Sky gli europei e l'avventura degli azzurri di Mancini nella rassegna al Via dall'11 giugno prossimo. Dopo 9 mesi purtroppo di limitazioni molto forti, lo stato di salute del turismo marchiciano è l'attesa per una stagione che deve dare una boccata di ossigeno a un settore che ha subito uno stop pesantissimo con danni all'occupazione e all'economia veramente molto rilevanti. La speranza è che la nostra regione possa essere meglio identificata e soprattutto riconosciuta e riconoscibile intorno all'offerta che noi possiamo proporre al mercato nazionale e internazionale. Penso che le Marche siano veramente una di quelle poche regioni che ha tutto, montagna, campagna, mare, monumenti, tutto stupendo, quindi diciamo che credo che siamo in pole position e poi sul fatto, sullo spot si dice possiamo farvi innamorare e gioire, creare emozioni, io spero che ci sia una connessione tra lo spot, le Marche e la nazionale per l'inizio degli europei. Spero che sia di buon auspicio per la nostra regione perché credo che in questo momento ne abbiamo molto bisogno e che possa essere un grande successo soprattutto per noi delle Marche, quindi speriamo e incrociamo le dita.